Ma io vado grande, sei grande, ma vado del numero uno, io vado contro senso, io vado contro corrente, io con la Kia sono uno che fa contro corrente, grande, ma tu sei il numero uno, l'intelligenza della persona, che sta caricando, questa suona è Slaus, questa è con la Kia, ma la sono comprata perché vado contro corrente, hanno dei grandi, lui è il numero uno, lui è il numero uno, l'intelligenza ironica, gli si è rotta la macchina, non vogliono le poffe che ha nemmeno, sta Slaus, là dentro, con questo mico, ha un caldo incredibile, mette le mani sul volante perché non se ne sa mai, no? Non se ne sa mai perché lo sta guidando, la Kia è strumento, perché loro sono i geni assoluti del male, loro sono quelli che non gliene ha fregato nulla che la Kia, dicono tutti che fanno contro corrente, è la più bella di tutte, e queste sono le dimostrazioni che sono andate proprio contro corrente, contro corrente, io li amo, io li amo, a grande, eccola qua, è molto ristoriana questa Kia, eccola qua, Lucrezia, dov'è Lucrezia, dov'è Lucri, Slaus, abbiamo dietro il contro corrente, non sei contrastante, no? Slaus, è clima di derby, la situazione è controversa, bella per te! Forza Lazio! No, 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 ma ci succede! Slaus!